Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino. Buongiorno dalla redazione del TG6, tra poco sfoglieremo le pagine dei quotidiani locali, le prime nazionali e rivedremo anche alcuni dei servizi confezionati ieri dal TG6. Iniziamo subito con la nostra rassegna stampa dalle quattro pagine, le prime pagine del centro, questa è l'edizione di Pescara, acqua vietata, controlli nelle scuole. Pescara ristagno nell'ultimo tratto delle condutture, oggi i risultati delle analisi. Poi ancora al centro lo vediamo, Nobel per la fisica, c'è anche l'Abruzzo di spalla per lo sport. Canutè si racconta, io, il Ramadan e Zeman, parla il senegalese del Pescara. Poi ancora in basso leggiamo questi due richiami a Pescara aggredito in centro, giovane in ospedale. Poi bloccati in città tre specialisti di furti d'auto. Vediamo anche fatti nazionali, ecco qui manovra via a misure per 20 miliardi, MDP si sfila. E poi in basso, Bruxelles, l'Europa presenta il conto ad Amazon. E poi ancora Film Commission, regione divisa sulla legge per il cinema. Masterplan 15 milioni a 41 comuni per il turismo, trasporto locale, treni regionali. Nel 2019 arrivano i pop. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Benvenuti a Ovindoli, qui la bontà è di casa. E adesso andiamo a vedere l'edizione terramana del centro. L'apertura aiuto a 200 famiglie indebitate. Il Tribunale accoglie i pieni di rientro presentati per pagare mutui e studi dei figli. E poi di spalla in Viale Crispi a Teramo esplode linea interrata sfiorata la tragedia. E poi in provincia, a Colonella, sì al villaggio turistico degli Arabi. Giulianova, caos, scuolabus, i genitori non passano. E ora vediamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. Ecco il titolo d'apertura. Preso a botte e rapinato in casa. Salto a Guardia Grele, imprenditore tenuto in ostaggio per un'ora da tre banditi. E poi a Treglio una tragedia nei campi. Si ribalta con il trattore e muore schiacciato. A Chieti, PD a congresso con 370 nuovi iscritti. La storia, Don Carmine, il parroco che fa gol. Ora l'edizione aquilana del centro. Il titolo d'apertura con le parole del primo cittadino. Biondi sul rugby. Azzeriamo tutto. Il sindaco incontra i tifosi per la raccolta fondi. E ora si riparta dai garanti. Ancora gli sviluppi dell'inchiesta coordinata dalla procura di Avezzano. Corruzione indagato. Il sindaco tedeschi, il sindaco del comune di Cerchio. A Villa Valle Longa, Don Carmine, il parroco che fa gol. La sulmona torna Aladino, vicario in attesa del vescovo. Ed ora vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura, bussi, i faccendieri dietro i veleni, le voci sulla sentenza comprata. La Gerardis sono stati Ruggeri e Gian Caterino, i due coinvolti nell'inchiesta di Avezzano sugli appalti. Oggi nuovi interrogatori. E poi abbiamo sotto la testata tre richiami. Pescara, piazza Salotto, ragazzino malmenato da un ubriaco. A Teramo esplode linea elettrica interrata a Tombino come un proiettile. E poi la palla ovale in crisi all'Aquila. In tanti raccoglono l'appello dei giocatori dell'Aquila Rugby a gestire il ricavato della colletta. Gli atleti hanno chiamato le tre ex-Glorie Carlo Caione, Lanfranco Massimi e Fulvio Di Carlo. Di spalla, la regione finanzia lo sviluppo dei borghi. Il piano sottoscritto dal presidente D'Alfonso e dai sindaci dei piccoli centri storici. La fotonotizia al centro. L'imprenditore picchiato e rapinato da una gang. Irruzione notturna in casa di Carlo Iubatti a Guardia Grele. Poi Nobel per la fisica. Le scoperte targate anche dal Gran Sasso Science Institute. L'Aquila e Sulta per la collaborazione nella ricerca sulle onde gravitazionali. E poi in basso giro del mondo in bicicletta lo farà il terramano Gianni Tavoni. Vediamo ora la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Acqua sicura pagherà il governo. Intanto lunedì è arrivato il nuovo strumento del ruzzo per valutare la qualità dell'acqua del Gran Sasso. Sotto la testata, gli esperimenti sulle onde gravitazionali. C'è un po' di abruzzo nel Nobel per la fisica. Al comune di Teramo, Dodo avverte, sarà un bilancio spartiacque. La fotonotizia. Il Gran Botto salta in aria un tombino della rete elettrica. Tutto questo a Viale Crispi. Poi di spalla, avvertenza atria. Gli americani non cedono sugli esuberi. Martinsicuro, migranti. Il PD propone il sì allo Sprar. Sanità, politica giuliesse allo sbaraglio sull'ospedale. A Roseto invece, nervi tesi sugli urbanisti del piano regolatore. Scontro sui termini delle nomine dei tecnici. Poi in basso, leggiamo anche Giulianova, commerciante investito in bici sul lungomare. Ruzzo 5 in Lizza per il posto da superdirettore per lo sport. In vista del turno infrasettimanale di domani, Mister Rasta prepara la rivoluzione. Difesa 3 in vista della Feralpi Salò. Tutto questo per l'allenatore del Teramo. Lasciamo i quotidiani locali. Andiamo adesso a esplorare le prime pagine nazionali. E partiamo, lo vedete, dal Corriere della Sera. Strappo di MDP, arriva il primo no. Manovra a rischio, sì, tecnico, ai saldi di bilancio. Bubbico lascia. E poi, sotto la testata per la fisica, ecco qui, le onde gravitazionali da Einstein al Nobel. La fotonotizia al centro, il discorso del re catalani sleali. Sciopero generale, interviene Felipe. Poi, in taglio medio, figli assunti e molesti. E due casi in Parlamento. Il sottosegretario Rossi ritira le deleghe. Boldrini intervengo. Vediamo ora la prima pagina di Repubblica. Lo strappo di MDP. Non voteremo il DEF. Maggioranza in bilico. Padoan apre sulla manovra, ma non convince la sinistra. Bubbico lascia il governo. Pisapia si smarca. Dialoghiamo. E poi, ancora la fotonotizia. Il re Catalogna irresponsabile Puigdemont. Ora l'indipendenza. Cresce lo scontro istituzionale in Spagna. E poi, ancora in basso, vediamo inchiesta. Tutte le falle dall'IVA alla riscossione. Evasione. Il record dell'Italia in fuga dal fisco 111 miliardi. E poi, in basso, moda la fine di un tabù. Hatton, Mirren e Fonda sfilano le belle per sempre. Andiamo avanti. Siamo al messaggero. La prima pagina. Manovra strappetto a sinistra. MDP voterà il DEF. Poi uscirà dalla maggioranza scontro con Pisapia. Si dimette il viceministro Bubbico. Finanziare da 20 miliardi. Via il super ticket. Risorse per povertà e investimenti. Paduan pronti a modifiche. E poi, il restauro dell'anfiteatro Colosseo. Riapre l'attico. Era la tribuna dei plebei. Spettacolo da 40 metri. E poi, al centro, la fotonotizia. A Catalogna, la condanna del re Felipe. Slealtà inaccettabile. Protesta in piazza. Foto false delle violenze sui sociali. Secessionisti. Indipendenza vicina. E poi, il killer di Marsiglia. Lo leggiamo di spalla. Addestrato dal fratello. Erano in Italia sette mesi fa. L'attacco di Ahmed Anaci. Pianificato in famiglia. Anuar Anaci. Ancora nel Lazio. E poi, in basso. Stretta di Bruxelles. Stangata Amazon. Maxima multa dall'Unione Europea. Per tasse non pagate. Siamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. L'apertura. 20 mila firme contro i nominati. Un fiume di adesioni alla petizione per una legge elettorale democratica. E poi, sotto la testata, questi due titoli. I bersagliani non mollano il governo Pisapia. I bersagliani mollano il governo Pisapia. No, Bubbico si dimette da vice ministro dell'interno. E poi il Nobel agli scienziati che criticano la Fedeli. Il premio agli scopritori delle onde gravitazionali. E poi ancora, in basso, leggiamo. Trump se ne infischia della strage. Di armi parliamo. Un'altra volta il killer di Las Vegas con 42 tra pistole e fucili. Il mattino manovra. La sinistra rompe, si divide. Paduan aumenta i tagli e salta il super ticket sanitario. Più fondi per povertà e sud. MDP non voterà la relazione al DEF. Il vice ministro Bubbico lascia. Ma l'area vicina a Pisapia dice sosterremo il governo. E poi in basso, anche in questo caso, si dà spazio alla notizia del Nobel della fisica ai nipoti, tra virgolette, di Einstein. Tra americani hanno intercettato le onde gravitazionali. E poi le interviste del mattino. Troppi turisti all'area è già montatura dei sindacati. E andiamo avanti con la stampa. Manovra maggioranza in bilico. MDP annuncia il suo no al DEF. Ritivera dall'esecutivo il vice ministro Bubbico. Tensione sulla legge elettorale. Il PD tentato di ricorrere al voto di fiducia. Le misure per il 2018 valgono 19,6 miliardi. Il ministro Padoan è pronto ad aumentare le spese di un miliardo. La foto notizia. Perché non denunciamo le violenze subite? Pochissime donne trovano la forza di un'azione legale. Ecco le loro storie per capire le ragioni del silenzio. La prima pagina del tempo. Il nord ha rotto i maroni. Referendum blef dopo il caos catalano. Ci riprovano i governatori di Lombardia e Veneto. Atto inutile. Il voto non ha effetto. E dannoso. Spacca il centrodestra. Non è ora di crescere. E poi in centropagina la fotonotizia. Hanno chiuso la curva dei laziali. Buu. Squalificata la nord. Due turni fatali. I cori razzisti col Sassuolo. In basso il commento. E repressione. Ma ora smettiamo. In basso danni morali. Equitalia condannata. Chiese ingiustamente 476 mila euro a un uomo. Ora dovrà risarcirlo. La prima pagina di Libero. Mondo nero. Senza offesa per i fascisti. Treni locali assaliti di continuo. Da bande di africani che terrorizzano i passeggeri. E picchiano i ferrovieri parlamentari di sinistra. In sciopero della fame. Per avere lo Ius Soli. Motivo in più per non votarlo. E poi Baricco difende i migranti in tv. E gli italiani cambiano canale. Ascolti sotto il 2%. Ancora in basso. Patto Maroni Zaia. Marciamo sul Roma. Referendum autonomia. E poi come far tornare i conti. Con la tassa unica. Lo Stato ci guadagna. La prima pagina del Sole. 24 ore. Processo allo spesometro. Sistema ancora nel caos. Accusa e difesa nei giudizi degli esperti del Sole. Da reinviare i file scartati. Il garante scrive a Gentiloni. Allarme sulla privacy. E poi a centropagina. Manovra alcune o solo 338 milioni. Strappo maggioranza MDP. Lascia il vice ministro Bubico. Ora oggi il voto sul DEF. Per la legge di bilancio 2018. Si parte da una correzione. Di 19,6 miliardi. E ora andiamo avanti. Con la prossima testata. Eccola qui. Quella del giornale. Tutti in pensione più tardi. A 70 anni. Nel 2051. La Corte dei Conti. Impossibile. Abbassare l'età del ritiro. E arrivano 5 miliardi di nuove tasse. E poi dopo il video delle Iene. Parentopoli a Montecitorio. Via il sottosegretario Rossi. E poi sempre per la politica. I bersegnani molano Gentiloni. Ora il governo rischia grosso. MDP non vota il DEF. Si dimette un vice ministro. Poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti. Chi guarda il dito. Chi la luna. E chi Woodcock. Travaglio. E la difesa del PM. Il manifesto. Ecco l'apertura. Non c'è speranza. Padoan annuncia l'impianto della manovra economica. Pochi soldi per welfare e occupazione porte chiuse sulle pensioni. La Corte dei Conti. Brindalà Fornero. Il vice ministro Bubbico esce dal governo. Speranza. Non votiamo il DEF. Ma Pisapia lascia la porta aperta. Avanti ancora. Andiamo ora con il secolo XIX. L'apertura manovra strappo di MDP. Non voteremo la relazione sul DEF. Il vice ministro Bubbico lascia il governo. E poi ancora l'avvenire. Con questa apertura non chiudiamoci. Il ricordo a quattro anni della strage di Lampedusa. Montenegro. Europa. Scuotiti. Basta con i morti. Le celebrazioni in memoria dei 368 migranti al Senato. Adesso a P. Rilancia. Solo ius culture. E sì entro questa legislatura. Possiamo lasciare i quotidiani nazionali. E possiamo tornare su quelli locali. Iniziando a sfogliare le pagine del centro. Partendo dalla pagina 2 e 3. Cinema e Industria. Ciacabruzzo. La Film Commission divide la regione. Tutti la vogliono. Ma localismi e iniziative private frenano la legge. Il regista Marco Risi dice Qui c'è una bellezza che va assolutamente valorizzata. Eccolo qui Marco Risi all'opera. E poi qui alcuni momenti che hanno contrassegnato il grande cinema nella nostra regione. Con la fiaba di Lady Occa, Rocca Calascio. Ma vediamo anche altri episodi. Come Trinità con Bud Spencer e Terenzile a Campo Imperatore. A Barrea Nanni Moretti con La Messa è Finita. A Pescara. Questa è una produzione molto più recente. Con Claudio Amendola che ha girato il permesso. Con l'attore. Lo vediamo Luca Argentero e poi vediamo anche Michele Placido e Giorgio Cluney a Sulmona. Poi ancora in basso. La maggioranza accelera. La legge si farà a Pietrucci. Puntiamo a una fondazione a cui possano partecipare gli operatori economici abruzzesi. Poi ancora così il grande schermo fa crescere il turismo. Il caso della Puglia. Nel 2016 il governatore Emiliano ha rifinanziato la legge con 6,6 milioni di euro. E poi aggiunge che il consigliere PD Pietrucci vogliamo trovare in consiglio una convergenza trasversale sul testo. Avanti ancora Nobel per la fisica. Parla anche abruzzese la scoperta premiata dall'Accademia Svedese. Il riconoscimento a Kip Thorne, Barry Berish e Renner Weiss per gli studi sulle onde gravitazionali. Importante il ruolo del Gran Sasso Science Institute. E poi in basso ora la sfida è ascoltare il Big Bang. L'obiettivo è lavorare su frequenze sempre più basse per catturare il suono iniziale. Ad Alberto Giazzotto dice che nessun'altra radiazione conserva la memoria di quel momento accaduto quasi 14 miliardi di anni fa. Queste sono le parole del fisico italiano Giazzotto. Andiamo avanti. Masterplan ai piccoli comuni. 15 milioni per il turismo firmata all'Aquila alla convenzione tra la regione e 41 sindaci della provincia di Chieti. Ogni ente locale avrà 140 mila euro. I fondi alle cordate Borghi Ospitali, Borghi Bagliera, Arancione, Borghi Basso, Sangro, Trigno. Avanti ancora andiamo alle pagine della cronaca, anzi prima della cronaca di Pescara. Siamo alla pagina dell'Abruzzo con i trasporti, in particolare i treni locali. In arrivo i nuovi convogli POP per le linee regionali e la consegna delle quattro commesse. A partire dal 2019 la presentazione a Milano alla presenza del ministro del Rio. E poi di spalla Pescara-Abruzzo la prefettura scrive dateci i bilanci. E poi ancora siamo questa volta sì alle pagine di Pescara. Acqua vietata, scattano controlli ai rubinetti in tutte le scuole della città. Comune e H escludono la presenza di cariche batteriche nelle tubazioni a Piazza Grue. Oggi i risultati delle analisi. L'assessore ristagno nell'ultimo tratto delle condutture. E poi testa anche in casa, edifici pubblici e negozi. Il forum H2O sollecita un piano straordinario e urgente di verifiche non soltanto sulle fontanine. Allora ieri abbiamo ascoltato l'assessore comunale Di Carlo. Vediamo. Assessore Di Carlo si parla di acqua, ci sono dei problemi per quanto riguarda alcune fontanelle. Anche per qualche abitazione di Piazza Grue. Qual è al momento la situazione? La situazione è sotto controllo. Abbiamo organizzato più tavoli con gli enti interessati, quindi con Acqua, con Arta e con Asl. L'Acqua già sta intervenendo per adottare gli opportuni provvedimenti. Stiamo parlando di una densità dell'acqua, quindi quest'acqua non presenta una carica batterica. In via precauzionale il sindaco ha emesso la sua ordinanza sindacale. Parliamo di un fenomeno limitato, però c'è un po' di allarme tra i cittadini, un po' di preoccupazione? L'allarme è infondata, anche perché dalla comunicazione che ci è pervenuta dalla Asl dall'inizio dell'anno 2017 sono stati effettuati più di 120 prelievi, quindi solo in questo periodo sta la situazione minimale rispetto agli innumerevoli controlli che sono stati fatti. Abbiamo sottoposto la questione a tanti per tanto tempo, adesso abbiamo visto che anche nelle case, in alcune scuole c'è dell'acqua inquinata o comunque non buona per potersi bere. Allora noi diciamo che innanzitutto l'Acqua, l'Asl e il Comune dovrebbero permettere ai cittadini di vedere subito che cosa succede, invece noi non abbiamo trovato assolutamente niente. secondo, continuare a dire per tempo che è soltanto l'ultimo metro dell'acqua che arriva alle fontanelle che è inquinato, porta la gente a pensare che qualcuno è inefficiente, qualcuno è incapace e quindi può arrivare il panico. Il panico non arriva perché le associazioni o noi denunciamo le cose che sono negative, arrivano perché le istituzioni non fanno il loro dovere e continuano a dare delle risposte, diciamo così, poco professionali e quindi chiaramente la gente non ci crede. Cosa deve credere? Che dopo un anno che critichiamo queste cose, che l'inquinamento arriva soltanto all'ultimo metro della fontanella, questo no. Allora noi chiediamo che l'Asl faccia dei controlli non soltanto nelle zone dove è apparso qualcosa che non va, ma in tutta la città, perché il sistema idrico è unico. Quindi devono dirci che cosa hanno intenzione di fare. Sempre sul centro giallo dei rifiuti tossici, amianto e lana di vetro nei sacchi lasciati sul fiume l'assessore Marchigiani svela il mistero dopo l'allarme lanciato da Dipillo dei Cinque Stelle i materiali sono stati già smaltiti, c'è un'inchiesta in corso della magistratura poi in basso i fanghi di Ortona nel mare di Pescara e Silvi Di Sante del Partito della Rifondazione Comunista in arrivo 342 mila metri cubi di sedimenti, Alessandrini e Maragno intervengano. Avanti ancora, manutenzioni ospedali, Olicar a rischio, stipendi e tredicesima sono 90, i lavoratori interessati, i sindacati attaccano l'Asl, cosa ha in mente? Tordera, noi disponibili al confronto. E poi, qui in questo caso siamo all'Aquila, il caso in tribunale, processo, funerali di Stato, arriva la prescrizione. Avanti ancora, torniamo a Pescara. Bloccati gli specialisti dei furti d'auto, tre uomini di Cerignola si aggiravano di notte in via Vespucci con materiale da scasso e centraline per rubare veicoli. Poi ancora, in taglio medio, giovane aggredito in centro, mentre discute con la fidanzata la denuncia di un 15enne finito in ospedale. E poi lascia il maggiore Scarponi e Pescara addio, l'ufficiale dei Carabinieri, trasferito ad Ancona, grazie ai pescaresi, abbiamo sventato tanti reati. Allora, ieri c'è stato il congedo proprio del maggiore Scarponi. Andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti, un congedo che è arrivato anche nel corso di una conferenza stampa, dove appunto sono stati svelati i dettagli di questa operazione contro gli specialisti dei furti d'auto. Maggiore Claudio Scarponi, oggi in conferenza stampa, ha illustrato questa operazione portata a termine nelle ultime ore, tre persone denunciate per ritrovamento di arnesi da scasso nella zona di Pescara Porta Nuova. Nel fine settimana sono stati eseguiti una serie di controlli di natura preventiva e tra il risultato dei controlli appunto c'è stata questa attività che ha permesso la consumazione probabilmente di furti di autovetture. Quello di oggi è il suo ultimo giorno a Pescara come comandante della locale compagnia. Dopo sei anni lascia il comando provinciale per assumere un altro incarico. Sì, è l'ultimo giorno. Sono stati sei anni meravigliosi, intensi, faticosi e colgo l'occasione per ringraziare i miei collaboratori e soprattutto la cittadinanza. Pescara ha un tessuto sociale sano, laborioso e in tutte le circostanze si è dimostrata vicina e collaborativa con noi forze di polizia. Diceva prima in conferenza stampa una città sicura, Pescara però probabilmente manca ancora qualcosa per far percepire questa sicurezza alla cittadinanza. Questa è la sfida che attende le forze di polizia e le istituzioni in generale. Trasmettere quel senso di sicurezza che a volte magari non viene percepito anche se tutti i numeri, gli indici di delitosità sono assolutamente positivi. Quindi questa città è più sicura rispetto a sei anni fa. Il nostro compito è quello di rendere questo dato oggettivo respirato, renderlo pienamente usufruibile da parte di tutti. Diceva qualche minuto fa che non sono pescarese, non sono nato a Pescara ma ormai mi sento pescarese adottivo. È una città che rimane nella pelle e mi porterò nel cuore. Tra qualche giorno arriverà il nuovo comandante della compagnia di Pescara e lei invece si trasferirà nelle Marche. Sì, il mio prossimo incarico sarà la legione Marche. Maggiore lei ha fatto il bilancio dei suoi anni, in particolare ha ricordato l'ultimo anno a Pescara e ha ricordato la tragedia di Rigopiano. È stata un'esperienza che ha colpito tutti quanti hanno partecipato. È stata una tragedia immensa dal punto di vista umano e sicuramente un'esperienza che mi ha lasciato dentro una profonda cicatrice, un'esperienza drammatica. Orseguiamo sempre sul centro. Intervista al direttore di architettura. No al nuovo stadio vicino alla Pineta. Fusaro, il nostro dipartimento esprime perplessità sulla scelta di quella zona verde della città. Il comune cambi idea. Ecco qui la zona dove dovrebbe nascere, secondo il progetto illustrato la scorsa settimana. In quest'area dovrebbe nascere il nuovo stadio. Avanti ancora. Siamo sempre a Pescara. Bilancio sociale 2016. Pensione e diritti a Pescara. 16.498 chiedono assistenza. In aumento la domanda di tutela tra disoccupati e invadi. 353 pratiche per il riconoscimento di malattie professionali. Poi in basso, Ictus, Pescara tra i centri migliori. Il reparto diretto da Lombardozzi, premiato da un'indagine della Death Morning. Avanti ancora. Aree di risulta. Confronto su parco e terminal bus. Nuovo appuntamento con gli stati generali della mobilità urbana. L'assessore Civitarese illustra i piani per l'intera zona della stazione. Pagine di Montesilvano. Sentenza della Cassazione. Uscita dei minori da scuola. Non basta una liberatoria. Secondo la Suprema Corte, i ragazzi fino a 14 anni vanno affidati dai docenti ai genitori. Alla Troiano Delfico, il braccio di ferro tra famiglie e preside. Poi ancora, Street Art, Urca al lavoro in Via Foscolo. Apre la stagione Dave Writer. Il 33-an artista marchigiano sta decorando i muri esterni del campo di calcio. Dopo di lui sarà la volta di Milo che con la sua creatività ridarà colore alle case di Via Rimini. Poi ancora, sempre in provincia di Pescara, Casa di Riposo Caprara. Non ci pagano da otto mesi. A Spoltore SOS dei 20 addetti che operano nella Casa di Riposo con 41 posti letto a Villa Acerbo. Oggi incontro in municipio con il sindaco Dilorito e i sindacati. Avanti ancora, a Cepagatti Agrario si lavora nella sede di Villa Reia. Il presidente della provincia di Marco rassicura famiglie e alunni aule pronte nei primi giorni di novembre. E poi ancora, sarà un olio di qualità ma occhio alla resa. A tocco da Casauri attesa per la raccolta delle olive che quest'anno si presenta favorevole dopo un 2016 che ha lasciato i produttori a secco. Il parere appunto dell'esperto. Poi ancora, Penne abbraccia la sua scrittrice, festa per Di Pietro Antonio, vincitrice del premio Campiello, il nostro orgoglio. E poi ancora, pagina di Chieti, rapinato e picchiato in casa. Tre banditi tengono in ostaggio per onora l'imprenditore Iubatti e poi fuggono con i soldi. Il titolare della ditta di Carni, immobilizzato insieme alla moglie, è colpito ripetutamente al volto e al corpo. Le ferite medicate in ospedale, i malviventi hanno agito, avviso scoperto, sono scappati con due auto prese dai garage. Spariti anche i gioielli dalla cassaforte. Poi, sempre nel Chietino, si ribalta col trattore, muore schiacciato. Fioramante Trevinini, 62 anni, gestiva un agriturismo. Il figlio gli ha sconsigliato quel percorso. Tutto questo è accaduto a Treglio. Nell'Aquilano, a Palti e Mazzette, in Marsica, corruzione, indagato il sindaco Tedeschi. Il PM, 20.000 euro, transitati su una società collegata al primo cittadino di Cerchio. La difesa, mai avuto erargizioni, sono tutte delle brave persone. Poi, morto nel Fucino, si cercano testimoni. Il poliziotto, 46 anni, persi il controllo sulla strada di Sestata. Appello del fratello, a sette anni dal dramma. Pagina Terramana, tragedia sfiorata in Viale Crispi, esplode elettrodotto, interrato. L'Enel è un caso irripetibile. Forse un tombino sepolto sotto l'asfalto, amplificato gli effetti di un guasto sulla linea a 20.000 volt. Sarà aperta un'inchiesta. Il sindaco chiede alla società di distribuzione verifiche approfondite. E poi Martinsicuro morì cuocendogli a rosticini, via al processo, ai titolari del bar. Ci fermiamo con Mattino 6. Ci fermiamo per questa prima parte. Lo spazio ora alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi la seconda parte. Allora, torniamo in diretta con la seconda parte di Mattino 6. Riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Ecco qui, dietro gli appalti, i faccendieri dei veleni di Bussi. Le voci sulla sentenza pilotata diffuse da Ruggeri e Gian Caterino. L'avvocato dello Stato Gerardis lo dissero al commissario Goio. E poi in basso Carabiniere salvò una donna nel sottopasso allagato medaglia d'argento in premio. E poi in basso leggiamo anche trasporti faccia a faccia tra D'Alfonso e il sindacato. La CGL continua a opporsi all'operazione che assegna alcune linee alla Sangritana. E poi a Pescara, no allo stadio vicino alla Pineta. In una nota del Consiglio di Dipartimento di Architettura, le tante perplessità legate alla localizzazione dell'impianto, consumo di suolo, tutela del passaggio e aspetti ambientali. Si può fare una scelta diversa, chiede il direttore Paolo Fusero, che invoca un confronto. E poi in basso leggiamo anche ultime pennellate di Millo. Il murale illumina Fontanelle. Ecco qui il murales, eccolo proprio in uno dei palazzi nel quartiere di Fontanelle a Pescara. La gigantesca opera del Writel apprezzata dalla gente. Ora il vero riscatto del quartiere. Restiamo sempre a Pescara. Analisi e controlli sull'acqua torbida. Il sindaco Alessandrini al tavolo con Asla Arta H. L'assessore Di Carlo annuncia una pulizia delle condotte. Il forum H2O chiede controlli nei quartieri e dati online. Forza Italia preoccupazione per gli studenti a Piazza Grue. L'inquinamento risulta minimo, ma il problema non si risolve. Le polemiche aumentano. E poi, lo abbiamo ascoltato in precedenza, il saluto di Scarponi. Parto con il dolore di Rigopiano. Il maggiore firma. L'ultima operazione. Nella rete tre specialisti di furti di auto. E poi ancora siamo a Pescara. Anche in questo caso, ragazzino pestato in Piazza Salotto. A 15 anni preso a pugni da un adulto ubriaco. Mentre stava discutendo animatamente con una amichetta. Il racconto degli amici si è intromesso e dopo aver detto che fai, ha sferrato due colpi in pieno volto. Indaga la mobile. E poi, tributi. Il comune abbandona la soggette. Il servizio va all'agenzia delle entrate. Il consiglio si affida al nuovo gestore per la riscossione. 5 Stelle e Forza Italia accusano a rischio 30 lavoratori. Siamo ora all'Aquila. Via Roma residenti in rivolta contro il centro per i migranti. Vertice in prefettura chiesto dai cittadini. La struttura è un deterrente al rientro. Lamentati disagi e problema di sicurezza. Un servizio così non può stare in centro. Il prefetto ha assicurato che si confronterà con i responsabili della Onlus per trovare delle soluzioni. E poi, in basso, tasse non pagate consulente nei guai. Chiuse le indagini nei confronti di un professionista che avrebbe truffato i suoi clienti. E poi ancora, restando a l'Aquila. L'Aquila Rugby, la città, raccoglie l'appello. Ha riscosso grande successo l'iniziativa di ieri all'auditorium nel parco costruita dai giocatori neroverdi per salvare la squadra. A gestire il ricavato della colletta gli atleti che hanno chiamato le tre ex glorie Carlo Caione, Lanfranco Massimi e Fulvio Di Carlo. Il consigliere comunale Leonardo Scimia propone di donare un gettone di presenza. Avanti ancora, siamo alla Marsica con l'inchiesta sugli appalti. Gian Caterino parla oggi e molti tremano. Appalti e mazzette. Gli interrogatori sono stati sospesi ieri per una giornata di riflessione degli investigatori. Anche Ruggeri, Di Pietro e Ranieri davanti al magistrato. L'inchiesta della procura marsicana appare nella fase finale. Poi ancora, siamo alle pagine di Chieti. Picchiato e rapinato in casa, incubo per Iubatti e la moglie. I malviventi lo hanno colpito fino a fratturare le costole. Tanta rabbia e senso di impotenza. I tre banditi a volto scoperto portano via 50 mila euro in banca note gioielli. Nel mirino il noto imprenditore delle carni. L'arma dà la caccia a una banda dell'Est. Poi di Spalla, fabbrica di tessere nel PD, clima teso ed esposti in vista. Dopo il ricorso contro la fusione dei circoli teatini, 12 esponenti hanno scritto al segretario Rapino. Poi ancora, andiamo in basso, no antenne dei telefoni vicino a scuole, asili e ospedali. Il Comune si è dotato di regolamento i controlli affidati ad Arta e Polizia Urbana. Poi Onewell è il giorno della verità. Oggi il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, il confronto tra i vertici aziendali e il Ministro Calenda. L'incontro sarà presente anche alla Regione Abruzzo. Parlamentari PD e 14 sindaci chiedono aiuto a Gentiloni. Sciopero da 11 giorni, mai annunciata la chiusura dello stabilimento, dicono i dirigenti della multinazionale. Andiamo ad ascoltare ora le parole del responsabile della FIMCISL Automotive a Petino che ieri è stato nei pressi dell'azienda nel comprensorio Zangrino. È un'avvertenza molto difficile. Chi sta investendo ovviamente è tutta la struttura della FIM nazionale impegnata per trovare una soluzione per questi lavoratori. Ovviamente il Governo deve fare la sua parte. Abbiamo chiesto al Ministro Calenda, al Vice Ministro Bellanova di convocare quanto prima, in tempi celeri, la dirigenza di Orwell che non può, in un paese normale in cui le istituzioni vengono convocate e un'azienda non si presenta. Noi crediamo che il Governo attraverso il Ministro Calenda deve stringere verso la multinazionale americana per trovare una soluzione perché sono a rischio 420 lavoratori e dietro ogni lavoratore c'è una famiglia e quindi parliamo di oltre 1.000-1.500 persone. Domani ci aspettiamo che subito dopo l'incontro fatto con il Governo, con la dirigenza e le istituzioni locali e regionali il Governo ci convoca subito perché noi vogliamo chiarezza sul quadro complessivo industriale di questo stabilimento e insieme al Governo trovare la soluzione che dia respiro a queste persone che sono ferme quasi in sciopera ad oltranza da circa un mese. La multinazionale non ci venga a raccontare storie del taglio del costo del lavoro o produttività perché questo stabilimento è uno di quegli stabilimenti che per primo ha intrapreso la strada dell'efficienza, abbassato la produzione su tre turni a due turni, deve scoprire le carte e farci capire veramente quali sono le sue intenzioni. Se è quella di continuare a investire su questo territorio, su questa regione e dare respiro ai lavoratori o attraverso il Governo dobbiamo trovare una soluzione che metta a riparo i lavoratori e non sfoci in ulteriori 400 licenziamenti. Sicuramente la FIM non abbandonare i lavoratori, la politica lo sta facendo, la FIM non lo farà. E ora le pagine di Teramo del Messaggero esplode la linea interrata Tombino come un proiettile lo scoppio della rete elettrica Enel ha frantumato il manto stradale il sindaco Brucchi fosse successo di giorno forse sarebbe stata una tragedia. Un boato e un blackout nel cuore della notte hanno gettato nel panico i residenti della trafficatissima via Crispi. E poi di spalla leggiamo Atria oggi ai cancelli anche il sindacalista Maurizio Landini. E andiamo ora sulla costa Teramana ospedale il sindaco sfida D'Alfonso Mastromauro convoca tavolo per il nostro comio senza aspettare l'invito del governatore non ha risposto a due sollecitazioni il presidente della regione manca di rispetto alla città l'obiettivo è realizzare una struttura costiera di primo livello nel tardo pomeriggio di ieri incontro a sorpresa con Filipponi e il capogruppo Vasanella lasciamo il messaggero Abruzzo andiamo ora a sfogliare le pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo torniamo appunto su un incidente occorso due notti fa ecco qui gran botto e tragedia sfiorata in Viale Crispi attorno a luna di notte salta in aria un tombino interrato della rete elettrica a 20.000 volt che squarcia l'asfalto la paura dalla Gammarana fino a Campoboario l'esplosione è stata avvertita distintamente poi il blackout durato alcune ore è risolto dai tecnici Enel con il telecontrollo della rete cittadina e allora andiamo a vedere il servizio confezionato dalla nostra redazione terramana un'esplosione tremenda nella notte a Viale Crispi a Teramo ha creato un cratere sulla strada nei pressi della stazione ferroviaria facendo volare un tombino interrato ad oltre 150 metri di distanza poteva essere una tragedia con morti e feriti ad evitarlo l'ora tarda intorno a mezzanotte e mezza e 13 secondi dal passaggio dell'ultima macchina rumore fuoco fumo blackout elettrico molti dei residenti hanno pensato ad un terremoto e invece era semplicemente saltato in aria una tubatura dell'Enel da 20.000 volt che cosa ha avvertito ieri sera? si è sentito un grande botto che poi non sembrava terremoto poteva essere nascosta ma niente di questo perché solo i lampadari hanno tremato un pochettino poi niente poi non si è sentito più niente sono affacciato a finestra ho visto fumo forse un po' di poi le sirene ma come fa a saltare una tubatura elettrica da 20.000 volt che passa sotto una strada centrale trafficata come via le Crispi forse una rete troppo vecchia e l'Enel che dice sembrerebbe che c'è stato un problema sulla linea di 20.000 volte in corrispondenza di un pozzetto di una cameretta così si chiama e questo ha determinato un'esplosione un tombino è stato sbalzato fuori per oltre 150 metri meno male che non è accaduto quando non c'era nessuno in un orario che diciamo in quella zona non è frequentata ma dalle telecamere abbiamo visto che 13 secondi prima due macchine si sono incrociate in questo punto quindi poteva trasformarsi in tragedia meno male che questo non è accaduto io questa mattina comunque dopo essere stato informato nella notte di quello che era successo ho sentito Enel nazionale e ho chiesto di prendere in considerazione una verifica perché se il motivo di quello che è accaduto è la vetustà dell'impianto allora va subito messa in atto un'attività di verifica e magari di manutenzione della linea è vero che il 2017 è stato un anno terribile per Teramo a causa dei noti eventi naturali ma nel caso dell'esplosione di una conduttura elettrica da 20.000 volt nel centro di una città di naturale c'è poco questa volta è andata bene ma la prossima sempre sulla città Atria gli americani non cedono sugli esuberi per la proprietà i 55 licenziamenti sono l'unico modo per recuperare l'efficienza della fabbrica Ruzzo 5 candidati super direttori tra i curricula pervenuti per il nuovo posto in via dati ci sono 3 ingegneri terramani un lancianese e un laziale il nuovo dirigente lavorerà a tempo pieno ma con contratto di 5 anni a 105.000 euro l'ordi l'anno i compiti dovrà dirigere il sistema degli acquedotti e il potabilizzatore di piane di Colevecchio a Montorio al Vomano avanti andiamo a pagina 9 questo sarà un bilancio spartiacque Dodo Di Sabatino ha illustrato il documento finanziario alla ex maggioranza e poi ancora le notizie dalla provincia il governo si fa carico dei lavori ai laboratori positivo incontro di Palazzo Chigi sulla messa in sicurezza l'emergenza dell'acquifero del Gran Sasso poi si parla di controlli nel frattempo è arrivato nella giornata di lunedì il tanto atteso spettrometro di massa ordinato dalla Ruzzoreti per controllare in modo più approfondito le acque che sgorgano dal cuore della montagna siamo a Martinsicuro si riaccende la discussione sullo sprare il PD presenta una mozione pro migranti unico modo per controllare gli arrivi aderendo allo Sprar nel comune si potrà essere ospitato solo un numero di migranti stabilito dal Lanci restando in provincia siamo a Giulianova politica giuliese allo sbaraglio sulla questione nuovo ospedale Mastromauro strappa con D'Alfonso intanto i DEM lo incontrano in regione Mastromauro ha deciso di andare avanti convocando un incontro per mercoledì prossimo a Roseto nervi tesi sulle nomine degli urbanisti programmi complessi le opposizioni parlano di bando emanato alla chitichella maggioranza disponibile a prorogare questa mattina l'argomento sarà trattato dalle opposizioni durante una conferenza stampa intanto il presidente della commissione urbanistica Peppe Di Sante dice tra sei mesi sarà pronto il piano particolareggiato di Roseto centro e poi ancora sempre a Roseto Ciancaione porta il caso Rolli in consiglio presentata una interrogazione sulle mancate promesse per l'autoporto in ballo c'è il lavoro e il sostentamento di tante famiglie rosetane non c'è tempo da perdere andiamo avanti siamo alla pagina dello sport in vista della gara di domani tra Teramo e Ferral Pisalo Asta prepara la rivoluzione già per domani provata la difesa a tre con Altobelli dietro Ventola con Altobelli dietro e Ventola a sinistra ma si ferma Tulli Amadio non dovrebbe farcela ieri l'allenatore del Teramo ha provato qualche cambiamento nell'assetto della squadra Amadio ha continuato il lavoro di recupero mentre si è fermato nel finale anche Giacomo Tulli in basso per il basket la Teramo a spicchi parte bene all'esordio batte l'Olimpia Mosciano coach Stirpe dice ci stiamo preparando per ripeterci anche quest'anno prima di andare sul centro e messaggero facciamo una capatina sui tre quotidiani sportivi nazionali vediamo come titolano partendo dalla gazzetta dello sport che apre con questa intervista ad Andri Shevchenko e quindi a tutto Sheva con diversi argomenti trattati l'Italia e il mondiale con l'Ucraina non voglio incontrarvi al playoff in Russia dobbiamo andare insieme poi il campionato con il Napoli rivoluzionario Sarri equivale a un Sacchi 2.0 la Juve però è più forte come Rosa e società e poi il derby di Milano per i rossoneri già un primo dentro fuori Spalletti tecnico preparatissimo una garanzia per i nerazzurri e poi sotto la testata Juve Douglas Betancur Allegri chiede il salto di qualità Inter il Gioli Caramocca da giocare al tavolo derby Milan Suso Buonaventura area di rilancio per i grandi delusi e poi sul fronte delle nazionali aggrappati ai gol di Ciro Ventura senza il gallo si affida a Immobile in gran forma e poi in Spagna le conseguenze del referendum in Catalogna Piqué Ramos che tensione il Cittilo Peteghi media ma nella Roja c'è inquietudine la prima del Corriere dello Sport con il mercato in evidenza Vidal l'Inter ci riprova e poi mercato caldissimo il 2018 è già arrivato con altri nomi inglese per il Napoli Emanecian per la Juve Ianto per il Milan l'addio di Ancelotti al Bayern riavvicina il Cileno ai nerazzurri e poi sotto la testata la nazionale cambia faccia tre difensori e tre punte la conversione di Ventura venerdì la partita con la Macedonia poi Lazio Cori Razzisti chiusa la Nord due turni la prima di tutto sport anche in questo caso si parla di mercato agganciati e ovviamente sono giocatori che sono nel mirino della Juventus ecco il mercato del futuro con Milinkovic Savic Emre Can Goretzka Goulam e Turam Junior e poi sotto la testata Toro finalmente interviene Cairo Var e Belotti troppi torti e poi in basso leggiamo anche Inter Milan due giri nel mondo prima del derby che è odissea per i nazionali anche il Belgio Sprememertens si Sarri è preoccupato e poi c'è un problema al centrocampo pochi ricambi tra i giovani ed ora vediamo rapidamente le pagine dello sport dei quotidiani abruzzesi siamo sul centro con questa intervista al senegalese Frank Canute il mio Islam e quei 50 euro ecco il mio Senegal è duro a fare il Ramadan dice Canute l'Isis sono terroristi il Corano dice altro con il primo stipendio ho fatto felice la mia famiglia e poi il centrocampista del Pescar raggiunge in Italia per studiare ma alla fine mi ha preso la Juventus che emozione allenarmi con Higuain poi ancora ci sono altre dichiarazioni di Canute molto legato all'ex tecnico della primavera della Juventus Fabio Grosso sono single non ho la patente i primi tempi in Italia per niente facili piangevo perché ero solo poi il calcio mi ha aiutato in croci pescaresi Grosso mi ha parlato bene del Pescara con lui alla Juve una stagione fantastica Zeman sapevo che prima o poi l'avrei convinto e poi le parole anche di Cesare Bovo Pescara felice di essere rimasto qui Zeman mi piace ma non fermiamoci poi le parole anche di Coulibaly ho realizzato il mio sogno avanti ancora per la serie C Asta prova il 3-4-3 ma in ansia per la punta Tulli il tecnico ha in mente dei cambiamenti per il posticipo di domani al Bonolis il regista Amadio starà ancora fuori per la serie D l'Aquila c'è la Coppa Italia Battistini fa giocare i giovani il derby di campionato tra San Nicolò e Vassese domenica si giocherà Pineto e non a Morodoro vista la concomitanza con la gara di promozione dei Biancorossi con il Pucetta poi ancora siamo all'Atletica l'Abruzzo Under 16 a caccia di titoli agli assoluti di Cless ed ora vediamo il messaggero Abruzzo con lo Sport ecco qui Bovo si riprende il Pescara nessun problema con il calcio di Zeman 15 anni fa a Lecce mi ha allenato degli Orossi e chiedeva le stesse cose oggi ci sono squadre più forti di noi ma questo gruppo è giovane e ha talento tra qualche mese saremo in alto non mi hanno mai detto che ero fuori dal progetto il nuovo contratto devo conquistarlo sul campo andiamo ad ascoltare anche noi le parole di Cesare Bovo solo fortuna credo nel senso siamo contenti perché non abbiamo preso gol abbiamo vinto due trasferte abbiamo vinto una e pareggiato un'altra sicuramente dobbiamo far meglio sicuramente dobbiamo lavorare meglio come dice il mister però credo comunque lavorare in settimana dopo un risultato positivo è sempre meglio quindi va bene però sicuramente dobbiamo migliorare lavorare sulle cose che ci chiede il mister perché come dice anche lui ancora manchiamo in qualcosa è importante ritrovare la vittoria dopo dei pareggi un po' rogamboleschi un po' per errori nostri un po' per sfortuna quindi l'importante era tornare alla vittoria l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo cercare concentrarsi su domenica perché è importante non fermarsi quest'estate ne ho lette tante ma fondamentalmente a me non sono interessate io purtroppo mi sono fermato in ritiro per me l'importante è soltanto star bene se il mister poi decide di farmi giocare è meglio ma sicuramente lui fa le scelte per il bene della squadra io sono contento di essere tornato ho avuto la fortuna di giocare sempre in Serie A la bravura sicuramente le capacità però per me non è un problema assolutamente non è stato un problema quest'estate l'anno scorso scegliendo Pescara purtroppo c'era in preventivo questa situazione ma non gli ho dato mai importanza per me l'importante è star bene sentirmi un giocatore importante per la squadra e aiutare dare il mio contributo poi se saremo bravi magari ci torneremo subito però questo non deve essere diciamo in questo momento secondo me l'obiettivo primario perché è ancora troppo presto e abbiamo le capacità per lottare per fare un campionato importante però credo che sia ancora prematuro parlare di obiettivi sono squadre più attrezzate più abituate sicuramente alla categoria però abbiamo anche dimostrato di potercela giocare con tutti quindi abbiamo ampi immagini di miglioramento e ci dobbiamo credere lavorando in settimana andiamo a chiudere con quest'ultimo titolo sul messaggero sulle pagine dello sport un terramo rinnovato al via della Serie A parliamo di pallamano sabato l'esordio in casa contro la matricola Oderzo confermate crese palarie in panchina c'è la brecciosa il torneo maschile osserva invece un turno di riposo dove il pari colto dal Lions a Modena allora noi ci fermiamo qui con Mattino 6 che tornerà domani mattina alle ore 8 con la consueta nostra rassegna vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 con il TG6 grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti